Amiche e amici di Rossini TV, giornata importante, oseremo quasi definire storica per l'Università degli Studi di Urbino e in particolare per il Dipartimento di Studi Umanistici che ha avuto un'assegnazione importante della quale andremo a scoprire tutti i dettagli e che in questa giornata fa da cornice alla presentazione del ritrovamento di quattro frammenti danteschi. I frammenti in realtà sono quattro e tre sono stati ritrovati da me e dal dottor Domenichini nel fondo notarile di Fossombrone. Un quarto frammento invece è stato trovato dalla professoressa Alessandra Molinari dell'Università di Urbino all'interno della sezione di archivio di Stato di Urbino, il fondo della cancelleria ducale, il test della Divina Commedia, trascritto da un copista di poco successivo all'età di Dante, non sono autografi di Dante, sono manoscritti di un copista vissuto forse 50 anni dopo Dante che ha trascritto l'opera di Dante. La direttrice dell'archivio di Stato ci spiegava che questi frammenti ritrovati non sono autografi e manoscritti di Dante ma di un trascrittore. Esistono in giro per il mondo frammenti che possono essere attribuiti direttamente a Dante? Allora, è probabile che esistano, solo che non li conosciamo, purtroppo non li conosciamo. La ricerca spasmodica dell'autografo di Dante continua da secoli. La scoperta di frammenti anche oggi, nel corso dei secoli, ci fa capire quanto estesa fosse la tradizione della Commedia, la tradizione manoscritta della Commedia, quante copie si facessero del testo della Commedia e quindi cercare, immaginare di trovare l'autografo di Dante è un po' come cercare l'ago nel paiaio, ma questa è un po' anche la scommessa dei filologi danteschi. Uno di questi frammenti era addirittura stato utilizzato come copertina e di conseguenza a rischio di essere completamente trascurato? In realtà tutti e quattro sono stati usati come coperta. Uno è un rinforzo del dorso, gli altri tre sono proprio delle coperte ed è una pratica molto diffusa tra XV e XVI secolo, che a noi sembra strana usare il testo dantesco per coprire un volume di un notaio, però fa parte della cultura appunto di questi periodi per cui la pergamena non si gettava mai perché è materiale prezioso e molto resistente. Quindi anche quando il codice come valore testuale veniva meno, lo si utilizzava dal punto di vista materiale, quindi si smembravano purtroppo questi codici e si dava loro una nuova vita, si dava loro un altro uso. Però se ci pensiamo è grazie a questo secondo uso che questi codici sono arrivati a noi, altrimenti non avremo nemmeno questi tre frammenti del codice dantesco. Questi libri di cui abbiamo parlato sono certamente manoscritti che avevano un grande valore dal punto di vista anche strettamente commerciale, nel momento in cui sono prodotti, quindi intorno alla metà del Trecento e anche prima, stiamo parlando quindi di due antichi codici della commedia, però poi nel corso della loro storia arriva un momento in cui qualcuno li ritiene inutili e quindi si attua un meccanismo di riuso, diventano semplicemente degli oggetti che servono ad altro, in questo caso a diventare coperte di protocolli di notai nel corso del XVII secolo. Ma questo non ci deve stupire perché la considerazione dell'oggetto libro varia nel corso del tempo.